Bene ragazzi, oggi andremo a fare un test che oserei definire disonesto. Praticamente voglio testare la mia smeridiatrice Parkside ricaricabile 12V confrontandola con altre due smeridiatrici elettriche da 220V una da 115 mm e un'altra da 230 mm, quella gialla per intenderci. Ovviamente su tutte e tre sono montati dischi per ferroacciaio è d'obbligo utilizzare tutti i sistemi di protezione idonei al caso quindi guanti di cuoio, più sono grossi meglio è, occhiali protettivi, cuffie per il rumore provocato dal taglio è per chi ce l'ha una protezione facciale per le vie respiratorie come una maschera è importante perché tagliando comunque si generano polveri metalliche che possono essere inalate e sono veramente molto molto pericolose quindi se avete una maschera non fate i fighi, non fate gli sboroni, utilizzatela così come tutti gli altri sistemi di protezione considerate che i pronti soccorsi sono pieni di imbecilli che fanno gli sboroni e poi si feriscono, si fanno male non si gioca con gli strumenti da taglio quindi sul tavolino cosa troviamo? troviamo una morsa con una barra di ferro da 25 mm per 6,5 mm e ferro massiccio dopodiché ci sono i dischi della smedigliatrice piccola quindi vedremo quanti ne occorrono mi auguro che con un disco si possa effettuare il taglio considereremo il tempo e la qualità di esecuzione i dischi sono molto sottili, molto fini e quindi suppongo che la qualità di esecuzione sarà buona del resto in una smedigliatrice così piccola si cerca più che altro la qualità, la finitura non tanto la velocità e la potenza quello che andremo a considerare soprattutto sarà se la batteria dura abbastanza per effettuare il taglio se entra in sofferenza e quanti rischi soprattutto saranno necessari per effettuare un taglio che normalmente potremmo considerare di non grande peso di un taglio non complicato per qualsiasi altra smedigliatrice poi cosa abbiamo? sul tavolo troviamo anche una valvola di un'auto e una valvola di plastica che devo tagliare ora prima di effettuare il taglio della barra di acciaio, di ferro andrò a tagliare questa piccola valvola di plastica per la quale suppongo che il disco non si dovrebbe assolutamente consumare bene, ora quello che voglio fare è semplicemente andare a mettere in carica la batteria della nostra piccola smedigliatrice attendere il tempo necessario affinché la carica sia completa e da lì provvederò a effettuare i tagli necessari alla prova ok ragazzi? a tra poco è arrivato il momento fatidico nel quale andremo a sezionare l'elettrovalvola della Ford questa è l'elettrovalvola che dà tanti problemi all'impianto di riscaldamento dell'abitacolo andremo a cercare di fare un taglio trasversale in modo da scoperchiarla, aprirla come se fossero due conchigliette per questo la andiamo a fissare su una morsa e cerchiamo di fare un taglio quanto più pulito possibile si tratta di tagliare pura plastica niente di troppo duro o complicato ma comunque dovremmo fare un lavoro quanto più pulito possibile ok? ora vediamo come fissare al meglio la valvola cerchiamo di trovare un buon compromesso stabilità per la stabilità vediamo un po' ok, questo dovrebbe andare sì già così va bene e per fare questo ci aiuteremo con la nostra smerigliatrice Parkside recentemente comprata è una smerigliatrice a batteria molto leggera, molto maneggevole e per questo vediamo un poco anche come va è il primo taglio che sto eseguendo con questo tipo di smerigliatrice ragione per cui conviene, scusate conviene allontanare un pochino la camera e vedere che risultato riusciamo a ottenere ok? inseriamo già da ora la batteria nel momento in cui si inserita la batteria è sufficiente premere l'interruttore e la smerigliatrice parte la batteria è pienamente carica provvediamo alle nostre protezioni nel caso in questo caso indossero semplicemente occhiali e guanti di cuoio mascherina e protezioni per le orecchie voglio sperare che non siano necessarie visto che stiamo tagliando plastica e iniziamo la nostra operazione ok la plastica si taglia molto molto facilmente con questo disco un disco per metallo però purtroppo è un pochino piccola la smerigliatrice nel senso che non arriva il raggio di taglio è molto corto si è bloccata forse sto pretendendo troppo ma si sto pretendendo un pochino troppo da questa smerigliatrice ma in qualche modo la dobbiamo testare vedete mi si blocca già solo con la plastica si incolla niente da fare devo dire che il giocattolino della Parkside purtroppo è un giocattolino ora come possiamo fare beh io la soluzione ce l'avrei lasciare la nostra smerigliatrice piccolina e chiedere aiuto alla 230 mm ho qui una DeWalt che devo stare attento praticamente a non tagliare l'intera morsa comunque ragazzi ora il gioco si fa un pochino più pesante e conviene staccare la telecamera perché insomma con una 230 mm non si scherza non è un gioco e bisogna fare molta molta attenzione quindi ora effettuo il taglio con la 230 mm che è questa bestiolina qua ora monti il disco e vi faccio vedere cosa salta fuori ok? un attimo di pazienza un attimo di bontà ci rivedremo con la valvola già tagliata e aperta grazie ho appena effettuato il taglio non me ne vogliate se ho staccato il video ma quando sono con questo tipo di smerigliatrice preferisco avere quanto meno gestazioni possibili anche perché insomma non si fa più un discorso di visualizzazioni o di mostrare quello che si sta facendo qua con questa smerigliatrice non si gioca e allora sono stati insufficienti due colpetti e non di meno e non perché il lavoro fosse già stato fatto dalla piccolina in realtà la piccolina questa qui della Parkside mi è risultata molto molto deludente perché per tagliare della semplice plastica mi si è bloccata due tre volte voglio dire batteria totalmente carica non so a che cosa serva cioè volevo fare una prova tagliando una barra di di metallo come questa non so magari la faccio ma se si blocca con della semplice plastica a tagliare una barra così è una barra di 25 mm per sei e mezzo di spessore penso proprio che non c'è la faccia e quindi insomma ma sinceramente lascia il tempo che trova sono 50 euro è un peccato veramente comunque togliamo la batteria da qui perché comunque anche se è piccola può fare male e mettiamola da parte dove non non si corrono pericoli e allora andiamo subito a vedere la nostra valvola ecco qua ecco per i pezzettini c'è di meglio allora cerchiamo di rimetterla insieme alla meno peggio questa qui andiamo a rimontare giusto per parlare con cognizione di causa non perché la vogliamo far funzionare e allora questa è la nostra elettrovalvola che va montata in questo modo ok ora questa è l'altra parte la parte superiore questa spinge l'elettrovalvola spinge questo pistoncino avanti e indietro ok cerchiamo di andarlo a montare così la cosa diventa quanto mai ok ce la stiamo facendo quasi scusate un poco ma si è anche un pochino deformata sembra no ni ok fatto tutto e allora questa è la nostra elettrovalvola questo è il suo funzionamento corretto o meno che sia l'acqua entra lì qua e c'è questo pistoncino che si apre e si chiude è male inserita scusatemi ma sono i problemi della diretta come si dice questa ciofeca veramente è una vera ciofeca e allora ci siamo? più o meno e allora cosa dovrebbe chiedere? che con l'elettrovalvola attiva questo va avanti e chiude la possibilità che l'acqua calda arriva da qui di andare dritto da questa parte in avanti c'è il nostro radiatore dell'abitacolo dove sono io io sono il motore e diciamo il guanto è il radiatore dell'abitacolo ok? io sono il motore quando l'elettrovalvola si attiva l'acqua passa liberamente ok? perché va di qua riesce a passare da questa fessura va al radiatorino e torna indietro e qua è sempre libero il condotto ok? tutto il gioco avviene in questo punto questa è la parte che si muove questo movimento fa sì che l'acqua possa raggiungere o meno il radiatorino dell'abitacolo nel momento in cui questo è chiuso qua qua l'acqua trova un tappo ok? bene ora quello che noi andremo a fare sarà costruire un piccolo impiantino con un deviatore una valvola manuale in modo da decidere manualmente se far arrivare l'acqua dritta al radiatore dell'abitacolo o meno e quindi chiudere o meno questo passaggio facendolo tornare direttamente indietro facendogli compiere una U praticamente eliminando questo discorso e facendolo tornare al motore questo è tutto nel momento in cui compiamo la U il radiatorino resterà senza acqua calda quindi insomma all'interno dell'abitacolo uscirà aria fresca nel momento in cui si ripristina il collegamento l'acqua arriverà al radiatorino il radiatorino si riscalderà e quando scendiamo la ventola ci uscirà l'aria calda comunque vediamo un po' quello che che salta fuori ora devo semplicemente preparare il le tubazioni con il rubinetto leviatore e vi faccio vedere il tutto ok? al prossimo video ragazzi ragazzi conclusione finale di questa smerigliatrice angolare ricaricabile della Parkside se mi si deve bloccare per tagliare della plastica per tipo di taglio di questo tipo veramente mi dispiace dirlo ma la devo bocciare cioè secondo me secondo me a questo punto non vale nemmeno la metà dei soldi spesi perché questo lavoro io lo dovrei fare con un seghetto a mano senza problemi e cioè il discorso è spendere più di 40 euro per un qualcosa che mi si blocca tagliando della semplice plastica è un poco penoso che vi piaccia o no alla fine le applicazioni si possono essere tante possono essere lavori mini lavoretti modellismo però voglio dire ovviamente la spesa si avvicina brutalmente 50 euro e per 50 euro penso che laddove dobbiamo tagliare possiamo farlo tranquillamente con delle lame applicate a un trapano delle mini lame applicate a un trapano e di certo non andarci a spendere una brutalità come quasi 50 euro in una smerigliatrice angolare ricaricabile che è sì maneggevole ma serve solo a questo al contrario con un paio di euro ci compriamo un paio di lame piccoline per per un trapano e facciamo tutti i tagli che vogliamo e a maggior ragione il trapano possiamo avere sia ricaricabile che elettrico voglio dire non vale la pena secondo me ok? mi dispiace commentare in questi termini ma se non mi taglia questo e se devo ricorrere a qualcosa di ben più potente per fare il taglio in 4 e 4 8 voglio dire non c'è santo che tenga ok ragazzi con questo è tutto spero che vi sia utile questo questo video questo nuovo video che sto pubblicando un pollice all'insù non guasta mai se l'onestà se apprezzate l'onestà iscrivetevi al canale così avrete modo di essere aggiornati sulle successive uscite ok? vi saluto e alla prossima ciao